Una crono scalata, si parte da Anfo e si arriva in cima a Monte Barremone. Siamo quasi pronti per la partenza, c'è bicicletta da strada e anche MTB. Corriiii, Corriiii, il frio di Venezia Giulia del Veneto sulla dorsale adriatica verso Bologna in autosole e specie ecco mi sembra che già si siano staccati due atleti un gruppetto di tre o quattro atleti guardiamo uno dei due sono tre atleti subito sin dalla partenza e sono staccati uno dei due mi sembra Diego Fenarovi un'altra parte due atleti erano in tre due atleti in fuga a uno l'hanno lasciato per strada ecco diego fenaroli e l'altro non riesco a non mi sembra neanche Bertelli te ma dopo c'è un punto che mi sembra che noi possiamo vederli passare tutti c'è uno spazio si ma è più su è più su Diego Fenaroli un in due sono saccati dal gruppo sin dalla partenza ancora un po' c'è due FUGITI ecco ancora due fuggitivi l'altro non lo conosco non si vede nessuno a loro spalle non si vede nessuno a loro spalle non si vede nessuno a loro spalle non si vede nessuno non si vede nessuno a loro spalle non si vede nessuno a loro spalle non si vede nessuno a loro spalle